Innovazione. L'innovazione è utile e importante. Mi serve per stare al passo con i tempi. Imparo lungo tutto l'arco della vita che i piccoli e i grandi cambiamenti migliorano l'ambiente, le relazioni, il modo di lavorare e mi rendono più responsabile. E per realizzare la sostenibilità mi assumo le mie responsabilità.